Mercoledì 11 maggio tra le ore 18 e le ore 24 viene chiusa al traffico la rampa dello svincolo utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale diretti a Palermo. Un provvedimento necessario stando alle comunicazioni di Anas dato che continuano gli interventi di finitura nel cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada A19 Palermo-Catania e la nuova sede della statale 640 Strada degli Iscrittori. Si prevede comunque un percorso alternativo immettendosi in autostrada tramite lo svincolo di Ponte 5 Archie dopo aver percorso le statali 640 Dir, 626, 640 in direzione Caltanissetta-Xirbi, 122 Bis e 121.